ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video mi vedete molto provata io mi sento molto provata cioè sono uscita alle 5 quindi 5 e un quarto quindi non alle 2 per andare al penny market a prendere 30 euro di spesa che potevo farne a meno si va bene ma tanto il cibo non si butta quindi va bene 30 euro di spesa per potervi farvi vedere per potervi farvi vedere no sono male per poter farvi vedere anche l'omaggio del penny market perché questa è la settimana degli omaggi perché le cose arrivano sempre tutte insieme no rega allora praticamente quella settimana che c'erano le cose a 1 euro tutti i supermercati c'erano le cose a 1 euro questa settimana l'euro spino c'è l'ombrellone l'md c'ha l'asciugamano da mare il telomare e il penny market c'ha un altro omaggio quindi non so si mettono d'accordo probabile sì perché ha cominciato l'euro spin adesso tutti quanti cercano di farlo nello stesso momento così tu impazzisci per fare le spese in tutti i supermercati perché sennò l'euro spin catalizzava tutta la gente all'euro spin per prendere omaggio dell'euro spin c'è da dire che forse l'omaggio dell'euro spin è un po' superiore agli altri due però all'emd te lo danno tutta la settimana non so fino a quando però guardate sul volantino c'è scritto ed è 25 euro aggiungi 2 euro per il telomare l'euro spin 35 euro l'avete visto nel video di ieri ma solo venerdì e sabato e devi aggiungi 1 euro su 35 però l'ombrellone non è male cioè è un bell'ombrellone se lo usate che andate alla spiaggia libera c'ha senso l'ombrellone dell'euro spin e il penny market 30 euro di spesa 1 euro aggiunto però omaggio meh mo lo vediamo comunque io nella giornata di oggi ho fatto la spesa all'euro spin se non l'avete visto c'è il video ieri e vi faccio dell'ombrellone e la camicia bellissima e adesso sono riuscita per andare al penny market solo che ragazzi non ve lo dico neanche sono zuppa questa maglietta è bagnata la devo lavare allora che cosa ho comprato per arrivare a 30 euro vediamo allora per arrivare a 30 euro cominciamo con la carta igienica questa comunque mi serviva quindi ho presa tanto era una cosa che mi occorreva ho pure lo scontrino poi così vediamo quante cose ho preso per 30 euro al penny market e quante cose ho preso per 35 all'euro spin allora ho preso dei gelati c'erano i gelati in offerta al penny market questi sono stecchi limone e liquirizia che sarebbero i look dei poveri lo sapete mi piace tantissimo questo gelato vi dico i prezzi perché i prezzi dell'euro spin più o meno li sappiamo ma il penny market io la spesa non la faccio quasi mai quindi curiosa vediamo anche i prezzi allora i gelati stavano ecco vi dico i prezzi però poi non li riesco a capire quindi in realtà al limone e liquirizia è qua 2 euro e 29 poco? no una volta costavano 1 euro e 99 ma va bene poi la carta igienica 2,99 tra un po' ci puliremo le chiappe con i soldi va bene poi però diciamo che questa ha dei rotoli belli cicciotti quindi dura un po' di più poi regalo aperti perché chiaramente capite che io abito di fronte al penny market cioè tipo tra il penny market e casa mia ci saranno 300 metri credo più o meno considerate che si stavano sciogliendo completamente perché cioè non lo so ma c'è tipo la temperatura del centro della terra fuori allora questi sono 8 biscotti panna e cacao alla modica cifra di 1 euro e 99 è buono 1 euro e 99 molto buono per 8 biscotti poi non dovevo fare la spesa raga chiaramente solo che vi volevo far vedere l'omaggio quindi ho preso cose un po' che tanto si consumano col tempo insomma poi ho preso un altro latte perché oggi l'ho comprato all'euro spin nel latte quindi non è che sono pazza l'ho comprato all'euro spin nel latte però ne ho presi solo due anche perché portavo la spesa io non c'era Luca quindi pesavano quindi già che sono andata al penny market e comunque dovevo fare la spesa non ho preso un altro tanto io compro questa a lunga conservazione quindi non è che me si sprecava poi c'era questo in offerta almeno credo che fosse in offerta no ma era in offerta c'era il cartellino giallo quindi era sicuramente in offerta eh sì allora il riso questo oh mamma questo che fa le insalate di riso questo raib come si dice ribe o raib non lo so comunque questo riso e sono due chili di riso e costava invece che tre euro e quarantanove ci aveva uno sconto dei sessanta centesimi quindi due euro e novantanove no due euro e settantanove vabbè non so regà non c'ho contato quindi spiatevelo così com'è comunque costava poco e il pacco da un chilo costava tipo venti centesimi in meno trenta centesimi in meno quindi era una buona offerta visto che tanto questo è il periodo delle insalate di riso se ne fanno in quantità magari anche quando viene qualcuno a cena che se fa l'insalata di riso mangiamo fuori quindi ho detto vabbè due chili di riso non mi vanno sprecati quindi bene per il riso poi ho preso due scatolette di tonno in offerta a un euro quella grande però quindi ottima a fare in realtà perché questo tonno grande a un euro buono poi Luca ci si fa la pasta perciò meglio sempre averlo credo che l'avevo quasi finito poi vediamo che altro ho preso ah queste erano in offerta regà cioè queste non le trovo mai 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 sapete mai non so se vi ricordate ma quando era due settimane fa vabbè comunque siamo andati a cena da Giova e Fra che Giova accendeva il barbecue faceva la cena col barbecue e io ho detto mi porto le salsicce da fare sul barbecue sono andata addirittura al Conad quindi non in un coso a caso ma al Conad e non ce l'avevano queste non ce l'avevano e quindi mi ero dovuta prendere degli straccetti di quelli che si fanno un po' ad Ella che però non erano niente di che rispetto a quello che stavano mangiando loro queste sono buonissime costano uno scatafascio dei soldi di solito tipo 5 euro però sono molto molto buone in effetti in realtà sono buone anche quelle dell'Eurospin ma ce l'hanno mai quindi va bene però al Penny Market ce l'avevano e erano in offerta a 3,49 euro che regà è veramente poco 3,49 euro per queste cioè non si trovano mai a così poco c'erano in realtà anche il pollo e gli hamburger però un hamburger dell'Eurospin ancora ce l'ho che l'altra sera abbiamo fatto la cena americana se vi siate persi il video perché abbiamo fatto la festa del 4 luglio così giusto per mangiare tutti insieme mi ero comprata e mi hanno comprato i hamburger dell'Eurospin quindi ce n'ho ancora uno e il pollo tra le tre cose è quello che mi piace meno queste invece sono deliziose troppo e quando scadono il 23 luglio quindi da qua il 23 luglio mi aspetta un barbecue per mangiarmi queste fatte come si deve sono buone pure in padella però non le trovo mai gli altri mangiano sempre il barbecue e che cavolo poi ho preso questa quanto mi piace quanto mi piace cioè l'insalata de mare mi piace tantissimo non la compro quasi mai in realtà non costa tantissimo anche l'Eurospin quella piccola però di solito c'è l'Eurospin l'avevo vista sul volantino in offerta e pensavo che fosse quella piccola perché il prezzo non era tanto alto e invece era questa gigante quindi quando sono arrivata ho presa per forza tra l'altro io scelgo sempre scelgo sempre quella con più calamari perché mi piace ne più e è buona certo non è proprio sanissima perché c'ha tutto sto liquidino un po' di olio in abbondanza però chi se ne frega 25 ottobre cioè sta roba se non la avro dura fino al 25 ottobre ma io me la magno subito state fuori o stasera o domani questa sarà mia e vabbè comunque vi dico quanto costava insalata di mare invece che 3 euro e 49 c'era lo sconto dei 50 centesimi quindi questo scofanone da 400 grammi sgocciolata 280 grammi di insalata di mare stava a 2 euro e 99 uno sfizio in realtà non è che ho fatta a spesa ho comprato degli sfizi perché a spesa l'ho fatta stamattina all'euro spin poi questi allora questi cosi non mi servivano chiaramente però rega io l'ho comprato una volta all'idol e sono cheese pop 99 centesimi di solito costano molto di più praticamente l'ho comprato una volta all'idol tanto tempo fa e non avevo capito se mi erano piaciuti o no in realtà sono degli snack di di formato e ciò è salito da sole sul divano oh mio dio e se siete capitati qui per caso non lo sapete babbi sta male cioè sta soffrendo di una forte forma di artrosi da quello che ha detto il veterinario quindi era tipo più di una settimana che non riusciva a salire sul divano e l'hai fatto in diretta mamma ciao si si gli sto dando degli integratori è la prima volta che ci riesce si ti voglio bene anch'io vabbè mo basta però calmati ah no ma non c'è no no tu sei salita così di corsa perché pensavi che questi erano quei cani sono stata truffata no rega ho capito male quelle che avevo comprato al al Lidl mi sa che erano in sacchetti e non erano fatte così queste sono patatine sono patatine no cioè sono buoni però non volevo questi anche perché costavano così poco queste sono proprio tipo patatine al parmigiano quelle che ho comprato vabbè quelle che ho comprato al Lidl l'altra volta erano tipo degli snack fatti così piatti come se fossero delle cialde di parmigiano schiacciato però tutto parmigiano era capito croccante queste invece sono patatine ho rosicato ecco perché costavano poco queste sono palline di croccanti di mais ricoperta al formaggio invece quello era tutto formaggio e erano tipo divisi in sacchetti sono una sciocca vabbè sono buoni e mi mangio uguale però insomma poi storia curiosa e affascinante ah no aspettate sono un'altra cosa prima della storia curiosa e affascinante ho preso la salsa yogurt perché questo è periodo ho in frigo tantissimi cetrioli tantissimi pomodori nell'orto perché c'è l'orto in mega produzione cioè tutto insieme perché chiaramente comincia a fare tutto insieme tipo cetrioli su cetrioli pomodori su pomodori solo che sto a mettere l'aceto balsamico quando faccio cetrioli e pomodori sto a mettere l'aceto balsamico la grassa buono ma non buonissimo con questo molto più buono quindi ho preso una salsa yogurt che era in offerta tra l'altro al penny market c'hanno sempre un sacco di offerte cioè da dirla questa cosa 1 euro e 19 invece che 1 euro e 39 poi ho preso questa per assaggiarla in realtà le ho appena comprate all'eurospin mi hanno prese tre una ma l'ho bevuta e quindi me ne sono rimaste due perciò visto che questa del penny market mi sa che non l'avevo mai assaggiata tra l'altro posso dire che stile la lattina rispetto a quella dell'eurospin non lo so com'è ho preso sempre la versione 0 lo scopriremo tanto ne bevo in quantità poi arriviamo alla storia curiosa e affascinante io compro tutte queste cose mi faccio un calcolo a mente considerate che la mia mente non è molto lucida evidentemente perché sono accaldata stanca e tutto quanto arrivo gli faccio guarda mi dici se ho speso 30 euro perché se no aggiungo qualcosa convinta che al massimo potessero mancare un euro due insomma qualcosa che prendevo lì alla cassa e mi fa 23 euro no come 23 euro scusami ma allora ho contato male sì avevo contato male mancavano più di 7 euro no ma no addirittura meno di 23 era forse vabbè mancavano più di 7 euro e quindi ho detto sì vabbè così su due piedi cosa prendo quindi sono tornata indietro ho preso questi e perché vabbè ho detto vabbè tanti gelati in se spregano perché fa caldo quindi quindi ho preso sono tornata indietro ho preso i gelati poi ho preso ah no questi li avevo presi prima di questo scenetta affascinante ovvero questi lo so sono preferiti non so proprio l'ideale però li avevo già visti l'altra volta volevo assaggiarli sono una cosa curiosa sono una cosa nuova cioè sono vegetali chiaramente sono tipo dei nuggets diciamo però non proprio nuggets perché sono più schiacciatini l'ho rovesciati dentro una bustina per metterli in freezer perché se stavano a scioglie non lo so cosa sono leggermente speziati triangolini di proteine di fave proteine di fave non le avevo mai sentite di solito queste cose sono di piselli di soia triangoli con proteina di fave avvolti in una croccante panatura di tortilla interessanti vabbè non lo so come sa però ho presi perché mi incuriosivano in realtà ci stanno pure un altro modello che sono tipo questi bastoncini qui però non ce l'avevano quindi va bene ho preso questi e questi costavano 3 milioni di gelati 2,69 euro non pochissimo ma queste cose costano tanto vabbè comunque fa tutta la spesa sottra la indietro ho preso i gelati poi ho preso queste che erano lì nel reparto non so se pure i vostri penny market ce l'hanno ma prima della cassa c'è un reparto con tipo le cose che gli avanzano credo le caramelle e poi le cose che gli avanzano queste gli avanzavano evidentemente ma tanto noi qui le consumiamo e queste sono tipo piadine però più morbide in realtà delle piadine perché sono quelle della settimana americana del penny market la settimana americana del penny market non va tanto de moda perché tutti i gelati erano in offerta i nuggets erano in offerta la pizza era in offerta questa era in offerta quindi 99 centesimi ma questa è fatta con l'olio si è fatta con l'olio top ok non è quella con il coso l'ho prese per Luca però quelle posso mangiare anch'io e quindi sono tortillas XXL non so quante ce ne stanno dentro ma sembrano tante per 99 centesimi forse ne avrei dovute prendere più vabbè comunque ho preso queste piadine e poi ho preso questo tonno che era in offerta lì nell'angolo delle offerte ho detto vabbè più pure il tonno tanto il tonno non si spreca se non compro adesso compro tra due settimane è uguale vado lì e mi fa no mancano ancora due un euro cinquanta no è qualcosa non è possibile gli ho detto scusa ma qua le cose costano troppo poco allora perché cioè comunque mi sembra di aver comprato tanta roba poi tante schifezze tante cose che di solito costano di più vabbè comunque sono tornata indietro ho preso pure dieci nuggets di pollo che ho messo sempre già in freezer dentro in sacchetto perché si stavano già a scioglie per Luca perché tanto queste sono cose che Luca si mangia considerate che già tipo stanotte lui in questo momento cioè no scusate ieri notte per voi vabbè insomma venerdì notte tornerà tipo ai cinque di mattina perché tornano da Padova quindi come minimo arriveranno ai quattro e mezza ai cinque e Luca quando torna però considerando che lui ha finito di cantare salito in macchina fatto il viaggio quando arriva per lui è tipo ora di cena cioè nella sua mente è tipo ora di cena quindi si vanno a dormire in realtà ma vuole mangiare quindi ho pensato se ho i nuggets ho le pizzette che ho preso all'Eurospin magari gli faccio un piattino mangia qualcosa e poi va a dormire perciò i nuggets tanto non si sprecavano per arrivarsi benedetti 30 euro ho comprato pure 10 nuggets quindi posso dire io a 30 euro ci sono arrivata è vero non ho comprato niente di che però ho comprato cose costose e non cioè alla fine è venuta fuori una spesa decente anche con del cibo vero perché c'è la tortilla c'è il tonno c'è so sti cosi i nuggets i sarsicci l'insalata di mare cioè il riso i gelati cioè mi sento abbastanza soddisfatta di questa spesa del Penny Market tra l'altro ho speso proprio 30 euro 30 euro e 55 centesimi proprio spaccati quindi cioè mi sento molto soddisfatta vabbè tutta sta manfrina e tutto sto suo della spesa per vedere finalmente l'omaggio del Penny Market ed ecco a voi l'omaggio del Penny Market una borsa mare perché ovviamente ti regalano l'ombrellone ti hanno regalato la borsa frigo ti regalano l'asciugamano dove le metti queste cose se non nella borsa mare se ci regalassero anche i solari bisognerebbe dirlo all'idol a parte che i solari e l'idol costano così poco l'idol non li fa gli omaggi forse non ne hanno bisogno vabbè manco l'eurospin non ne hanno bisogno non lo so vabbè l'idol se puoi cominciare a fare l'omaggio pure tu però se magari me lo scaglioni in settimane diverse così evito di dover fare 100 spese tutte nello stesso giorno allora la borsa la borsa c'era in tre colori bianca e rossa bianca e blu e bianca e grigia io l'ho presa bianca e grigia non lo so mi sembrava più elegante bianca e blu troppo marinaretto bianca e rossa non mi piaceva bianca e grigia mi sembra elegante allora c'ha i manici tipo dei corda intrecciata morbidi carini carino ok davanti è fatta così è bella capiente perché c'ha la base che si allarga quindi non male c'è scritto penne qui stampato proprio eh devo dire che è fatta bene il materiale è carino c'ha un'ancoretta qui in alto il materiale non è male allora borsa da spiaggia misura 50x35 penny market poliestere vabbè per forza carino c'è la casetta perché in realtà non si chiama più penny market si chiama penny punto ma al mio non gli hanno cambiato ancora l'insegna quindi continuo a chiamarlo penny market allora com'è dentro questa borsa a parte ci stanno sti cosi maledetti che se cado i cani se li mangiano è un casino è carina è pure c'ha la plastica dentro quindi è pure mezza impermeabile c'ha anche una taschina che però non si chiude è solo così per appoggio ma posso dire pensavo peggio mi serve una borsa mare? no no devo andare al mare? nemmeno nemmeno però vabbè una borsa mare può sempre torna utile carina molto carina si pensavo peggio non è male quindi ricordatevi che però è solo per oggi per voi perché era ieri cioè venerdì e sabato poi non c'è più quindi vedete il video andateci di corsa perché magari sono anche finite non lo so però regà io non posso mettere due video stesso giorno quindi per forza così però ve l'ho detto nel video dell'euro spin infatti qualcuno me l'ha chiesto poi sotto nei commenti perciò sappiate che l'MD vedano asciugamano e al penny market vi danno la borsa carina mi piace sono soddisfatta posso dire di essere soddisfatta anche di questa spesa perché mi sembra di aver comprato a parte questi che mi hanno un po' deluso ma mi mangerò lo stesso perché sono tipo patative mi sembra di aver comprato un bel po' di cose per quanto ho speso cioè per 30 euro no sono poche cose però sono cose che comunque di solito un po' costano perché ho preso tanto tonno ste sarsicce cioè ste sarsicce ragazzi 5 euro sulle sarsicce invece costavano 3,50 e sono soddisfatta sono soddisfatta vi farò sapere come sono questi cosi magari in un wiki vlog perché se siete capitati qui per casa tutte le domeniche su questo canale esce un wiki vlog sui fatti della mia vita un riassuntone della settimana quindi iscrivetevi al canale perché mi succedono un sacco di cose strane durante una settimana va bene allora le cose le ho già messe in freezer quindi sono stata brava però devo mettere in frigo le cose da frigo perché comunque stanno 5000 gradi e sono molto felice che il cane sia zompato sul divano dopo settimane di inattività brava mamma bene quindi ah rifà pure wow che carina quindi da questo svuota la spesa del Penny Market con romanzo è tutto e noi ci vediamo al prossimo al prossimo video ciao